Buongiorno, oggi vi volevo parlare del nostro spumante Charm Ticino Doc. Da quest'anno abbiamo una nuova veste in quanto è il 25esimo anniversario. È una cuvée di merlo bianco, chardonnay e pinot nero vinificato in bianco. Della linea degli spumanti dell'azienda Delea, lo Charm è il nostro spumante più venduto. Facciamo circa 50.000 bottiglie all'anno. Le tre varietà vengono vinificate separatamente dopo una pressatura soffice. Dopo la prima fermentazione avviene l'assemblaggio della cuvée. La cuvée viene messa in autoclave e subisce una seconda rifermentazione. Le varietà vengono vendemmiate abbastanza precocemente per evitare che la concentrazione zuccherina delle uve sia troppo alta, in quanto nella seconda fermentazione il grado alcolico aumenta. Quindi il vino base ha una gradazione di circa 10,5-11 e poi si arriva a 12-12,5 in autoclave con la seconda fermentazione. Facciamo un affinamento dopo la seconda fermentazione in autoclave che dura dai 4 ai 5 mesi. Aumenta le qualità sensoriali del vino in quanto dà maggiore struttura e sfumature diverse per quanto riguarda il profilo aromatico. Si sente comunque l'affinamento sui lieviti di 4 mesi che comunque conferisce delle note a un po' di crosta di pane, soprattutto fiori bianchi al naso. È un vino che va benissimo per gli aperitivi e anche per antipasti di pesce. Salute.